L'increzzo cerebrale è una tra le patologie più grandi neurologiche perché rappresenta la prima causa di mortalità, cioè la prima causa di disabilità e la terza causa di mortalità dopo le malattie cardiovascolari e dopo le malattie neoplastiche. Teniamo conto che si tratta di soggetti che fino al giorno prima, fino all'ora prima, erano pazienti completamente indipendenti e quindi ben inserite nel sociale, nel mondo relazionale e che all'improvviso si trovano ad essere completamente dipendenti da altri.